Grazie a tutti. Il dialogo legato soprattutto in questo caso per quanto riguarda il lavoro che faccio con l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, il dialogo legato al tema dei rifugiati. Se ne può parlare in tanti modi, il dialogo fra chi accoglie e chi fugge, il dialogo fra i paesi più ricchi e i paesi più poveri. In questo caso entra in gioco anche la povertà e entra in gioco anche un dialogo basato sulla chiarezza e sulla trasparenza. In questo senso, ad esempio, il fatto che spesso non viene detto chiaramente, viene sottaciuto, che la maggior parte dei rifugiati, di chi fugge da situazioni di terribile pericolo, di persecuzione, vive proprio in paesi poveri e inizia a dialogare con società e comunità che sono molto povere. Solamente poche di queste persone arrivano nei nostri paesi benestanti, nei paesi più industrializzati e che hanno più risorse e possibilità. Secondo lei il dialogo al loro arrivo nei nostri paesi è possibile? Non solo possibile, è assolutamente necessario, è urgente ripartire e ricominciare dal dialogo perché purtroppo negli ultimi anni al posto del dialogo si è instaurata una velenosa propaganda, velenosa perché in qualche maniera è entrata quasi nel discorso comune, nel senso comune, fino addirittura ad insinuarsi nello stabilire delle categorie sulla base delle quali ragionano i leader chi può prendere le decisioni. E questo sta creando dei grossi danni perché la propaganda non porta soluzioni, ma porta solo scontro. Grazie mille, buon lavoro. Grazie mille, buon lavoro.